No, no, por favorio! Por favor, no! Dai! Dai! No, amico mio! Ciacito, dia 27 febrero un video in YouTube Il Masso del Vassimo Il YouTube il video 27 e... per io verlo come? per io verlo come? io per verlo con il video come ho ho conoscato? il nome è del parximo papà papà, tu qui conmigo si? claro due amici due amici e del reti come di che? e del reti 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 quindi come lo chico? non lo so io youtube 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 youtube.com google youtube.com 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 questo è 3W è non lo so un 3 ecco un video e anche il